Due operai di un cantiere in piazza Marina sono finiti in ospedale, colpiti con un bastone di legno da Vincenzo Rotolo, 47enne di casa Micciola Terme, già noto alle forze dell'ordine. Erano a lavoro in un cantiere per la matenizzazione dell'area e senza apparente motivo sono stati prima insultati e poi presi abbastonate. Uno dei due ha subito la frattura di un osso della spalla, l'altro contusione ed escoriazioni. 30 e 3 giorni di prognosi prescritti nel pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno. Rotolo è stato arrestato dai carabinieri di Istia ed è stata sequestrata la mazza utilizzata. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia aggredito i due, ma è verosimile che lo stato di ebrezza possa aver giocato un ruolo determinante. Il 47enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.